Amici di Sanpei, ciao a tutti. Molti di voi giustamente si saranno chiedendo Lelio, ma come mai non fai vedere più video? È molto tempo che non ne fai uno. Purtroppo ragazzi, i video che avete visto fino ad ora, che devono ancora due da uscire, sono video vecchi. Io purtroppo, ragazzi, guardate qua come sono messo. In questo momento devo pensare alla mia salute, ragazzi. La pesca può attendere. Quindi ragazzi, se avete pazienza, che vi devo dire, continuate a seguire lo stesso i miei video e appena potrò, state tranquilli, che farò qualcosa, ok ragazzi? In questo momento non posso fare nulla, ragazzi. Vedete anche voi. Quindi seguite sempre il mio canale e ci vediamo al prossimo video, ok ragazzi? Ciao, ciao.